Benvenuti a bordo, di niente. Oggi non siamo a bordo, ma in ascolto del quinto indovinello, signori e signori. Oggi dovrete indovinare la voce dello, speaker, in quale stazione di USA. Lo speaker, di oggi è Silvia, per chi non sa la voce di Silvia, la ascolti su Youtube, e poi ritorna qui e vota. Come sempre, chi indovina stavolta non avrà un cuore, ma più uno iscritto, ed alcuni ricevono solo il cuore. Iniziamo. Regionale, delle ORE10 potenza 12, proveniente di A Milano Cadorna, e Iene arrivo a L binario 1. Vietato attraversare i binari, servirsi del sottopassaggio. Indossare L a mascherina. State H ai lati delle porte. Scusate ma non ho usato Silvia, ma non c'era. Morta versare i ci sono oUND. Torale B B ai fai nomina. Amina tempesta, v forg müssen dei suoi. Scusate ma non topassare. Scusate ma non ho usato ga. Grazie.